suona il telefono ad un ricco industriale una voce rock e cammuffata dice abbiamo rapito tua moglie ci devi mandare subito il riscatto 2 milioni di bitcoin che arriverà un pacco con la prova che l'abbiamo presa dopo un po arriva il corriere con un pacco lo apre e dentro c'è un dito dopo un po squilla ancora il telefono e la voce dice allora hai ricevuto il pacco è la prova che abbiamo tua moglie ci devi mandare subito quanto richiesto oppure la ammazziamo allora l'industriale risponde e no il dito delle donne è uguale per tutte non ci credo che l'avete presa se volete che vi creda mi dovete mandare la testa